indignarsi, è giusto gridare alla vergogna, va bene, allo scandalo, va bene, però io ho notato una cosa e questa la devo dire, io ho notato che quando si tratta di nazionale e succede qualche cosa di un errore diciamo così a favore, si scende tutti belli in piazza e si vanno a inneggiare grandi valori sportivi e quindi si scrive vergogna, scandalo, ma com'è possibile, andiamo al mondiale, andiamo all'europeo con questo errore ma no, però questa indignazione e questa situazione non la noto mai quando ci sono i club cioè le indignazioni a colori alterni e questa cosa io ieri l'ho notata e la voglio dire oggi va bene, è un errore, sono il primo a dirlo, per me quello era rigore, non capisco perché non è intervenuto il VAR va bene tutto, però dopo dico ok, c'è stato un errore, questa volta abbiamo usufruito di un errore poi attenzione, anche la dietrologia che ho visto da ieri, no ma perché Seferin aveva detto quelle cose e quindi perché poi c'è Gravina lì, quindi tutta una serie di costruzioni che praticamente ci fanno pensare che noi dovevamo andare all'europeo, va benissimo, anche a me ha dato fastidio quello che ha detto Seferin va benissimo, però dopo non ci lamentiamo quando dopo a casa nostra sono delle cose che nei nostri campionati ne sono successe tante ragazzi, tantissime ne sono successe di cose che hanno fatto pensare però dopo noi quando analizziamo da dentro il nostro campionato, se riceviamo una cosa del genere un errore così a favore, avete mai sentito un'indignazione così da parte della squadra da parte dei tifosi, da parte di coloro che seguono le squadre del tipo di quello visto ieri sera nei nazionali? No, e allora l'onestà intellettuale mi sta bene, ma ci deve stare sempre altrimenti quella con i colori e le bandiere a me non piace parto da questo presupposto, detto questo sono contento e lo ribadisco che la nazionale sia andata all'europeo, quindi con un errore